...tornata felice come un tempo, ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai signora D'Acomo è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Litterius, quindi un viaggio così lungo? Perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con il ragazzo e si è con noi. Mi sono rivolta al mago Litterius ed ho risolto tutto il mio problema. Quindi è stato l'ultimo tentativo? L'ultimo tentativo per risolvere la situazione familiare. E adesso come sta? Contentissima! Il grande specialista di alta magia è il mago Litterius che annienta il male ed è in grado di allontanarlo definitivamente. Alla presenza di questo benefico maestro rinascerà in te l'interesse per la vita e l'amore per gli altri. Studioso di parapsicologia, astrologo sensitivo, il mago Litterius è a tua disposizione per risolvere ogni tuo dubbio. Puoi chiamarlo al numero 335-6592-908. Puoi fissare un appuntamento riservato più vicino alla tua città. Riceve in Italia e all'estero, per casi importanti interviene a domicilio. Il mago Litterius è ricercatore del mondo dell'occulto. Mette a tua disposizione i ritrovati più potenti. Ovunque riscuote successo perché elimina tensioni, contrasti, liti, incompatibilità nelle coppie. Riesce a riunire genitori e figli. Il mago Litterius opera solo a fin di bene. È un uomo religioso e praticante.